Un 31enne di origine marocchina è stato denunciato per violenza sessuale dopo aver molestato giovedì mattina una 51enne tutor sociale operante all'interno del locale Utopia. Bar Trattoria che dallo scorso gennaio è diventato il punto di ristoro all'interno del parco Miralfiore coordinato dal progetto inclusivo della Onlus Gulliver. L'uomo già noto alle forze dell'ordine si sarebbe presentato alle 7 di mattina nel bar e dopo aver ordinato un cappuccino al bancone ha seguito la donna in questione nel locale dispensa prima palpandola e poi esternando il suo desiderio di consumare un rapporto sessuale davanti agli altri dipendenti allibiti. Alla minaccia di chiamare le forze dell'ordine l'uomo se n'è andato ma la polizia una volta allertata ha riconosciuto il soggetto e l'ha portato prima in questura per la denuncia poi al ricovero nel reparto psichiatria. Per la Onlus Gulliver un episodio amaro che mostra quanto nonostante gli sforzi già profusi serva ancora qualcosa di più per la sicurezza del parco. Stiamo facendo tanto con l'amministrazione con le forze dell'ordine ma purtroppo ancora non basta. Chiediamo più impegno, chiediamo più attenzione e un presidio fisso a Miralfiore. Purtroppo ieri mattina è un episodio orrendo che ha ferito tutta quanta la comunità della Gulliver di Utopia. Un episodio bruttissimo. Ringraziamo ancora le forze dell'ordine che nel giro dei 20 minuti hanno subito arrestato il personaggio e sono venuti qua e ce l'hanno rassicurato. Poi abbiamo fatto denuncia in questura e fortunatamente adesso il personaggio è rinchiuso. C'è l'impegno della Onlus Gulliver a tenere il parco vivo anche in un periodo magari meno abituale. Si è cominciato già a gennaio con il progetto Utopia. C'è anche l'intenzione del comune che vi spalleggia in questa operazione però non bisogna abbassare la guardia. Questo rimane un luogo sensibile nella zona più delicata vicino alla stazione, vicino al monumento della resistenza. Tutti i luoghi più attenzionati e quindi per farlo vivere bisogna anche metterlo nelle condizioni di farlo vivere. Il parco si è molto ripulito e il nostro gruppo tiene vivo il parco tutti i giorni alla mattina alle 7 fino alla sera anche oltre la mezzanotte. Lo puliamo, giriamo, segnaliamo episodi. C'è rimasta solamente una piccola zona del parco vicino via Cemmarosa che è un punto buio nascosto. Quindi chiediamo con forza al comune che venga totalmente pulito e chiediamo attenzione continua perché lo stiamo ripulendo, stiamo vincendo ma dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo ulteriore per cacciare via tutte le persone che non devono essere qui. Anche perché si rischia di creare una percezione spesso anche sbagliata che il parco sia pericoloso quando di fatto non lo è, ha degli elementi delicati da attenzionare ma di fatto è un parco vivibile, un parco per tutti. Noi siamo qui, vedete il parco è pulito, il parco è vissuto dalle persone e lo presidiamo. Purtroppo sono la mattina presto dove ancora non c'erano presente io, non c'erano presente altre persone fisicamente che potevano impedire l'accaduto. Teremo sempre attenzione. Il parco, ripeto, è vivibile, è fruibile dalle famiglie quindi non facciamo nessuna polemica politica o altro. Il parco sta funzionando ma abbiamo bisogno di un ulteriore passo subito da oggi, da domani di pulizia, di presidio costante.